Scoppia il gossip. Il grande fratello si trova in una situazione critica e il suo futuro è in bilico. Benvenuti su News Gossip World, dove vi teniamo aggiornati sulle news dell'ultimo momento. Iscriviti e metti un mi piace per non perdere nulla sulle succulente notizie che portiamo per voi. Grazie. Nonostante un inizio promettente e con uno share esplosivo del 23%, il reality ha subito una caduta vertiginosa negli ascolti nelle ultime puntate. La diretta del 15 settembre ha perso ben sette preziosi punti, scendendo al 16,1%, e solo ieri è riuscita a risalire al 18%, grazie alla replica di un vecchio episodio del commissario Montalbano su Rai 1. Ma ecco la notizia che farà tremare il mondo dello spettacolo. Il grande fratello sta per compiere una mossa audace per cercare di risollevare le sue sorti. Alfonso Signorini ha annunciato a sorpresa il cambiamento di programmazione. La seconda puntata settimanale del GF verrà spostata dal venerdì al giovedì. È un tentativo disperato per evitare lo scontro diretto con il mastodontico tale e quale show condotto da Carlo Conti, che vedrà in gara alcuni volti noti delle passate edizioni del grande fratello. Parliamo di personaggi come Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, Alex Belli e Maria Teresa Ruta, pronti a sfidarsi in uno spettacolo imperdibile. Quindi, cosa possiamo aspettarci dal grande fratello nella nuova serata di giovedì? E come si evolverà questa sorprendente sfida tra i reality e il talent show? Non resta che aspettare per scoprire quale sarà il destino di uno dei programmi televisivi più discussi e seguiti dell'anno. Il mondo dello spettacolo non smette mai di sorprenderci e News Gossip World sarà lì per raccontarvi ogni sviluppo di questa avvincente storia. Rimanete sintonizzati e iscrivetevi per tutte le news più giuisi. Commentate cosa ne pensate di questa mossa. Alla prossima!